Incidente mortale sulle siligate, 32enne investito e ucciso. Termina lo streaming di massa a Pesaro e registra il maggior numero di adesioni. Continuano i lavori di ripascimento alle scogliere di Ponente. L'orchestra Rossini arriva al Teatro della Fortuna, lo spettacolo su Rossini TV. Buonasera, eccoci pronti per il nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 23 dicembre e in apertura. Partiamo subito con la cronaca e in modo particolare con la tragedia stradale che si è verificata nella serata di ieri lungo le siligate all'altezza del concessionario BMW. Un 32enne pesarese che camminava lungo il bordo della strada ha perso la vita dopo essere stato travolto da due automobili. I dettagli in questo primo servizio. Si è verificata nella serata di ieri intorno alle 19 una grave tragedia stradale lungo la statale adriatica che ha portato alla morte di un uomo di 32 anni residente a Pesaro. La vittima, Mattia Piperno, stava percorrendo a piedi il bordo strada delle siligate all'altezza del concessionario BMW quando è stato investito da due vetture che transitavano in direzione Pesaro. Ancora ignota in fase di studio da parte delle forze dell'ordine le cause che abbiano portato il giovane a camminare in un tratto di strada molto trafficato e in cui la velocità dei mezzi risulta essere levata. L'uomo dopo essere stato colpito dalla prima vettura è stato investito dal passaggio di una seconda automobile mentre si trovava già riverso a terra. Poco prima del terribile incidente alcuni testimoni e conducenti di altri mezzi avevano avvistato l'uomo intento a camminare lungo la siligata e proprio per questo la polizia era già stata allertata del pericolo che il 32enne stesse correndo. Attimi minuti troppo brevi però che non hanno permesso alla volante del 113 di giungere sul posto in tempo per mettere in salvo la vita del ragazzo che dopo essere stato investito dalla seconda automobile è morto sul colpo. A nulla quindi sono valsi i tentativi di soccorso del 118 giunto sul luogo dell'accaduto insieme ai vigili del fuoco e alle pattuglie di polizia al lavoro per identificare il corpo del giovane sprovvisto di documenti. Sotto sciocchi i due conducenti dei mezzi che non sono riusciti ad evitare l'impatto contro la vittima per cui è stata predisposta l'autopsia che permetterà di capire se l'uomo si trovasse in stato di alterazione nel momento dell'accaduto. Ed ora voltiamo pagina perché termina oggi il grande screening di massa che ha permesso ai cittadini di tutta la regione Marche di sottoporsi gratuitamente al tampone antigenico rapido, un'operazione volta ad individuare i positivi asintomatici nelle varie province della regione. Nel prossimo servizio allora vediamo i numeri raccolti nel territorio pesarese. Termina oggi nella provincia di Pesaro Urbino l'esperienza del grande screening di massa organizzato dalla regione Marche per tracciare grazie ai test antigenici rapidi la popolazione regionale ed individuare tra questa eventuali casi positivi al covid-19. Un'operazione che nella giornata di ieri ha portato altre 10.000 persone in tutta la regione ad effettuare volontariamente il test, facendo salire ad oltre 45.000 il numero di tamponi rapidi registrati nelle Marche dall'inizio dello screening. Pesaro Urbino si conferma alla provincia con il maggior numero di adesioni, circa 13.000, e allo stesso tempo collezione al più alto dato di positivi, 95 persone, rispetto ai test effettuati. Noi avevamo organizzato per un numero maggiore di adesioni, ma era normale, nel senso noi ci dobbiamo sempre preparare alla massima adesione, in modo tale che l'organizzazione funzioni bene, che le persone non aspettino tanto in fila o in attesa. L'adesione comunque è stata buona perché siamo comunque la provincia che ha fatto numeri più alti in tutta la regione, quindi sono contenta. I pesaresi nella città di Pesaro hanno aderito più di 10.000 persone ieri sera, quindi comunque è un buon numero. Ci attendiamo oggi numeri elevati. Voi considerate che qui erano esclusi le categorie particolarmente a rischio, quindi tutti gli operatori sanitari non potevano fare perché già lo fanno normalmente gli screening, tutti coloro che sono nelle strutture residenziali, tutti coloro che sono nei centri di urni, coloro che sono in quarantena, coloro che ce l'hanno già avuto, quindi in realtà questa è una popolazione, tra virgolette, pulita, pulita da quelli che sono a massimo rischio. Quindi vuol dire che noi abbiamo circa l'1% della popolazione che gira con il virus, asintomatica e dal molecolare che stiamo facendo a tutti i positivi, che ricordo che sono stati tutti confermati ad oggi, tutti i positivi al test antigenico, sono in realtà positivi al molecolare. Hanno delle cariche virali importanti. Importante è anche il tasso di positività che è stato riscontrato anche nella provincia di Pesaro Urbino, il più alto credo della regione. Sì, è il più alto ma questa dimostrazione che noi siamo un territorio con una circolazione più diffusa rispetto agli altri territori. Si conferma sempre Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino con questa diffusione, lo vediamo nei numeri tutti i giorni, la nostra curva è in ascesa, vuol dire che noi abbiamo più nuovi positivi al giorno rispetto alle altre province, evidentemente circola. Questo dato conferma questa simulazione, considerate quindi se l'1% facciamo i 100.000 abitanti più o meno che a Urbino più Pesaro, quindi vuol dire che ci sono mille persone in giro in questo momento che sono positive e che non lo sanno. Noi non abbiamo ridotto niente in questi giorni, nel senso che oltre a tutta l'attività di contact tracing che fa il Dipartimento di Prevenzione che l'ha sempre continuata, oltre a tutta l'attività che fanno i distretti, quindi con le USCA che vanno al domicilio, con le USCA che fanno i drive e con le USCA che vanno nelle residenzialità. Noi abbiamo anche un focolaio importante, voi sapete, in una residenza protetta, quindi che la stiamo monitorando giorno giorno, direi secondo secondo. Quindi noi non abbiamo smesso niente delle altre attività, questa è una cosa aggiuntiva. Quindi io ringrazio tutti i miei operatori sanitari per lo sforzo immane che hanno fatto in aggiunta, oltretutto vicino alle feste e ricordiamoci che noi siamo sotto stress da gennaio dell'anno scorso. E continuiamo a parlare di coronavirus con i dati aggiornati del servizio sanità della Regione Marche, che comunicano che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.090 tamponi, un dato in rialzo rispetto alle 24 ore precedenti. 3.992 i tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi e 2.098 invece nel percorso guariti, con un rapporto di positività rispetto ai test effettuati pari al 12,5%. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 498 e di questi 144 casi sono stati registrati nella provincia di Pesaro Urbino, un dato in linea rispetto a quello delle giornate passate, mentre cala, seppur di poco, il numero dei decessi giornalieri. Sono quattro quelli notificati nella serata di ieri dal servizio sanità della Regione. Anche nella Regione Marche è stato individuato e isolato il primo caso della variante inglese del Covid-19. Il caso è stato individuato a Loreto, in provincia di Ancona, all'interno di un nucleo familiare composto da tre persone. A scoprire il cluster estraneo a contatto con l'Inghilterra è stato il laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona, diretto dal professor Stefano Menzo. La scoperta è avvenuta in seguito ai tamponi effettuati dai membri della famiglia. Ci è attesa invece per l'arrivo delle prime 200 dosi del vaccino Pfizer, destinati alla Regione Marche, per la giornata del Vaccine Day, in programma domenica 27 dicembre. Queste prime vaccinazioni simboliche saranno destinate ai lavoratori del comparto sanità della Regione, a Asur, operatori delle RSA, personale degli ospedali riuniti di Ancona e Marche Nord. Ed ora torniamo a Pesaro perché continuano i lavori di ripascimento alle scogliere diponente. Un intervento importante per l'arenile ma l'attenzione rimane alta anche sugli interventi necessari per il tratto di sottomonte. Terminerà nelle prossime ore il primo stralcio di interventi messi in campo per il ripascimento delle scogliere. L'arenile interessato dai lavori per limitare i danni dall'erosione è quello che costeggia gli stabilimenti balneari situati lungo Viale Trieste, con il completamento dell'opera previsto appena terminate le festività natalizie. L'attenzione però rimane alta sul versante sottomonte. Qualche giorno fa è stato bocciato in commissione bilancio un emendamento a firma del consigliere regionale Andrea Biancani, il quale chiedeva un contributo urgente di 150 mila euro per interventi in difesa della costa del comune di Pesaro. I danni delle ultime mareggiate hanno interessato non soltanto gli stabilimenti della zona ma anche la pista ciclabile. Disagi per i quali urge trovare una soluzione, come riferisce anche l'assessore all'operatività del comune di Pesaro Enzo Belloni. Dopo tanto tempo di attesa sono partiti i lavori di rinfoltimento delle scogliere soffolte nel tratto che va da Piazza della Libertà a Porto, un finanziamento complessivo di 430 mila euro di primo stralcio, di cui 200 la regione e 230 del comune e di 350 mila euro il secondo stralcio, 175 del comune e 175 della regione, quindi un lavoro fatto in sinergia con l'amministrazione regionale. Entro Natale finiremo il primo stralcio, subito dopo le feste la nave tornerà e terminerà i lavori del secondo stralcio. Contemporaneamente nel bilancio 2021 abbiamo già previsto circa 127 mila euro di interventi per i ripascimenti, quindi per portare la sabbia. In più stiamo lavorando per capire se riusciamo nel giro di qualche mese a trovare anche la soluzione per il tratto sottomonte per capirci e dalla zona di Bagni Bibi Margherita a due palme a scorrere dove le maree esterno stanno causando problemi, non sono gli stabilimenti balneari ma potrebbero causarli anche alla ciclabile, quindi l'intenzione nostra è attivarci attraverso i nostri uffici e soprattutto il coinvolgimento della regione perché vorrei ricordare che la tutela della costa non è una competenza delle amministrazioni comunali, qualsiasi siano, ma è una competenza prettamente regionale. Fino adesso c'è sempre stata grande collaborazione e siamo sicuri che continuerà anche per questi cinque anni. Ed ora comunicazioni che arrivano dalla Regione Marche perché la Regione appunto presenta una vera e propria novità nel settore delle politiche attive per il lavoro. Sarà infatti pubblicato a breve l'avvio pubblico per progetti mirati a reinserire nella vita sociale e lavorativa donne che abbiano avuto un carcinoma mammario. Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2021 sarà possibile inoltrare le domande per la presentazione di progetti sulla piattaforma C-Form 2. A presentare l'iniziativa l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Ed ora ritorniamo a Pesaro perché torna in forma comune con uno speciale Christmas Edition, progetto nato per promuovere le iniziative delle palestre pesaresi e svolgere attività fisica in modo alternativo durante le festività. Ogni mattina infatti alle 10 del giorno di Natale fino all'Epifania, in diretta sul gruppo Facebook Casa Pesaro, gli istruttori di 13 realtà cittadine proporranno in streaming un allenamento adatto a tutti. PC portatili e tablet per la didattica a distanza, arredi didattici per le scuole e monitor touch per la didattica in presenza. Sono alcuni degli acquisti che verranno realizzati dai due istituti scolastici presenti a Tavuglia, grazie al finanziamento da 30 mila euro assegnato dall'amministrazione comunale nell'ambito della manovra anti-covid approvata nelle settimane scorse in consiglio comunale. Ed ora ci spostiamo a Fano perché domani sera a partire dalle 21 trasmetteremo in diretta su Rossini TV, in diretta dal Teatro della Fortuna, il primo evento con il Comune di Fano che ha ideato appunto per queste prossime festività natalizie. A parlarcene quindi è l'assessore con delega agli eventi del Comune di Fano Etienne Lucarelli. Si scaldano i motori per l'arrivo del primo evento organizzato dal Comune di Fano in vista delle festività natalizie. Andrà in scena la sera della vigilia di Natale, a partire dalle ore 21 e in diretta su Rossini TV, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, concerto che vede protagonista l'orchestra sinfonica Rossini nella cornice del Teatro della Fortuna. Stiamo parlando della volontà di dare spazio a tanti artisti della nostra città, in questo caso all'interno del Teatro della Fortuna, quindi con la collaborazione del teatro, ma anche con la collaborazione e anche il contributo organizzativo dell'orchestra sinfonica Rossini e con la regia televisiva di Eris e Chiaroli realizzeremo due appuntamenti che per noi sono importanti. Il primo, il 24, per gli auguri di Natale, praticamente ci sarà questo bellissimo momento dove lo Schiaccianoci di Tchaikovsky verrà rappresentato dai disegni che il nostro ufficio fanno città dei bambini e delle bambine, ha fatto realizzare proprio dalle scuole locali, quindi dei disegni che rappresentano lo Schiaccianoci che come per magia prenderanno un'animazione particolare e sarà proprio un momento per augurare un buon Natale a tutti i cittadini di Fano, ma tutti coloro che in qualche modo risiedono nella nostra provincia chi vedrà questo spettacolo. E continuiamo a parlare di musica perché con l'arrivo delle festività su Rossini TV a partire da questo sabato potrete ascoltare anche tanta buona musica che arriva direttamente dal grande concerto Pesaro Music Story Live. Arriva sabato 26 dicembre su Rossini TV il primo appuntamento con Pesaro Music Story Live, concerto andato in scena nell'estate del 2017 che ha avuto come protagonisti alcuni tra i più importanti artisti pesaresi degli anni 60, 70 e 80. Organizzatore dell'evento Paolo Casisa, autore dell'omonimo volume da cui è partita l'idea per realizzare lo spettacolo. Il 19 luglio del 2017, grazie all'assessorata alla cultura del comune di Pesaro, sono riuscito ad organizzare un lungo concerto in cui si sono esibiti alcuni dei più importanti gruppi musicali pesaresi degli anni 60, 70 e 80. È stato veramente molto bello, un evento unico e irripetibile, non si potrà rifare. In quell'occasione c'era una telecamera che ha filmato per oltre 4 ore il concerto. Purtroppo quel video, per tante cose che sono accadute, è rimasto dentro un cassetto per tre anni. Ma adesso finalmente riemerge e per la prima volta può essere visibile anche ai musicisti stessi che sono stati i protagonisti. Il concerto inizia al tramonto, introdotto dall'assessore Daniele Vimini che dal palco assiste alla performance di Peppe Consolmagno. E continua fino a notte fonda con, nell'ordine, le esibizioni dei track. Gli Hot Five Rhythm & Blues Band, poi ha suonato La Rinascita, i TNT, gli Stigmarea, gli AV Gerenia e i Log. La messa in onda del concerto avverrà in otto puntate di sabato sera alle ore 21. Si mostrerà un'esibizione alla settimana. Si comincia con Peppe Consolmagno e nelle settimane successive a seguire tutti gli altri. Ed ora andiamo subito a vedere la programmazione di Rossini TV, subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale. Quindi intorno alle 20 potrete vedere la diretta dell'Ital Service Calcio a 5 Pesaro contro l'acqua e sapone. Quindi state collegati su Rossini TV questa sera dedicata proprio allo sport pesarese. E poi vi ricordiamo anche l'evento di domani, domani 24 dicembre alle ore 21 appunto, dal Teatro della Fortuna ci sarà il concerto di Natale dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Tutto in diretta chiaramente su Rossini TV. E vogliamo anche ricordarvi le messe durante le festività natalizie. Le messe che potrete vedere su Rossini TV, canale 633 oppure anche sulla nostra pagina Facebook. Il 25 dicembre alle ore 11.30, ma potete vedere anche la messa del primo gennaio alle ore 18.30. E io vi ricordo che domani, vigilia di Natale, noi saremo in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa, quindi seguiteci perché sarà anche l'occasione per farci gli auguri, mentre domani sera il nostro telegiornale non ci sarà. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, a domani e buona serata.